Lama Taranto, una bellissima zona, una baia meravigliosa e una iniziativa altrettanto meravigliosa organizzata dal Rotaract in collaborazione con Chima Ambiente Ami, una pulizia e una bonifica di tutti i rifiuti purtroppo maldestramente abbandonati dagli incivili, una iniziativa dicevo organizzata da Rotaract che ha avuto una grande partecipazione di numerose associazioni e una di queste è il Comitato Pezzavilla Verde e Sport con il suo presidente, il Cavalier Alfredo Conti. E allora Conti, un atto di amore per la città, un sacrificio piacevole, quello di rendere questa zona, farla risplendere nel suo originario splendore perché spesso viene deturpata da questi incivili che lasciano di tutto di più. È vero, troppo è la vera e triste realtà che la gente come al solito, molta gente incivile non è attenta e scopolosa per poter lasciare questa costa meravigliosamente bella ma dovrebbe essere anche meravigliosamente pulita. Purtroppo gli incivili ci stanno, questi esempi o queste partecipazioni servono proprio per sprono nei confronti di coloro i quali incivilmente sporcano la costa. C'è una presenza abnorme di giovani che è la cosa più bella. Perché sono il futuro della società. La loro spontaneità, la loro passione, la loro... Lei, presidente, è diversamente giovane. Io sono passionale. Diversamente giovane. Diversamente giovane. Lei lo sa, dottor Abbate, che sono anni e anni e anni che mi dedico alle pulizie della costa insieme a tutti gli amici che partecipano o compartecipano. Noi abbiamo preso, diciamo, a volo la palla a volo per poter partecipare a questa iniziativa organizzata dalla Roda. Pertanto, crediamo, è un appello alla civiltà. Oltre un appello alla civiltà, quella di, nelle varie postazioni, dove c'è la possibilità di poter soleggiare, ci debbano essere i contenitori dei rifiuti. Pertanto, faccio un appello al presidente del Chima Ambiente di mettere dove è possibile i contenitori dell'indifferenziata. Un altro volontario? Allora, noi stamattina abbiamo effettivamente eseguito una polizia radicale da costa a costa. abbiamo effettivamente dato il massimo insieme a tanti ragazzi che, anziché preferire spendere le loro energie attraverso bici o situazioni varie, hanno pulito questa situazione e non è la prima e non sarà l'ultima. Noi abbiamo anche pulito San Vito, così come anche altre coste. Insomma, ci stiamo prodigando e speriamo di andare sempre più avanti. Grazie.